Siamo arrivati all'undicesima edizione di Notte su Ali di Farfalla, la notte dedicata a Federica e Serena, ma direi non solo, a tutte le altre persone che sono rimaste vittime appunto quel 6 aprile del 2009. Siamo molto felici comunque di organizzare questa serata perché per noi è un modo anche di continuare i loro propositi che erano quelli appunto della solidarietà e dell'altruismo. Lo facciamo infatti donando delle attrezzature per la cucina della mensa multa paucis di Teramo. Quell'evento penso un po' come a tutti noi ci ha cambiato totalmente la vita, io insomma oltre a essere stato coinvolto nel senso che ho perso un sacco di persone care, un sacco di amici purtroppo. Il mio paese è stato veramente direttamente colpito perché sai un sacco di persone dipendevano all'Università dell'Aquila, quindi ecco l'abbiamo sentito veramente in prima persona. Quindi quando Matteo mi ha chiamato, l'organizzazione mi ha avvertito di questa cosa, io subito senza proprio battere i cigli ho accettato con grandissimo entusiasmo. E la cosa bella è stata vedere tutti i ragazzi dell'Abbè, io sarei dovuto venire da solo, invece tutti i ragazzi dell'Abbè hanno voluto fortemente partecipare e questo è stato bellissimo. Queste manifestazioni dovrebbero essere fatte tutti i giorni dell'anno, non ricorrere, anzi saltare proprio il giorno della memoria per ricordare che ogni giorno dell'anno è un giorno al quale possiamo riservare qualche minuto, qualche frangente all'interno degli orari di lavoro, degli orari scolastici, all'interno dei giornali. Stare sempre sul pezzo della memoria, molto spesso si dice stare sul pezzo di tante cose che onestamente mi sembra abbastanza superfue e non necessarie, invece la memoria serve più che altro a mantenere vigile la nostra attenzione sulla precarietà della nostra vita, sulla scomparsa di vite così giovani, ma soprattutto sul fatto che la memoria è fatta di congiunzione fra le persone, cioè è fatta di chi incoraggia l'un l'altro, non soltanto quando si è in vita ma anche quando quell'altra metà non lo è più.